Ciao, benvenuto alla consueta analisi settimanale dei mercati finanziari, sono Michele Clementi, ti parlerò nell'ordine dell'analisi grafica degli indici, una panoramica, della disoccupazione il dato uscito venerdì, di gas e petrolio la speculazione in atto, il pil pro capita e domanda per vedere le potenziali o le possibili evoluzioni del ciclo inflattivo per i prossimi anni, giornate di ribasse superiore al 2% delle statistiche per vedere se effettivamente nel mercato c'è stato un panic selling che potrebbe definire un minimo di questo mercato in particolare nel periodo di giugno, report, TINA, il nuovo acronimo, there is no alternative, cioè ci sono alternative all'investimento azionario, bene, andremo a vedere con un'analisi di Morningstar, le statistiche dei primi 8 mesi dell'anno essendo finito il mese di agosto si possono tirare le somme e vedere anche dal punto di vista delle statistiche cosa può succedere nei prossimi mesi e infine come sempre ti faccio vedere un certificate che in questo momento quota sotto la barriera e siccome piacciono tante gli investimenti privi di rischio, comunque a capitale garantito, privo di rischio non lo possiamo dire, però a capitale garantito ti parlerò di questo tipo di certificate. Bene, iniziamo con l'analisi grafica del Bund che nella giornata di venerdì complici anche delle ricoperture su tutto il mercato europeo, come ti facevo vedere la venerdì scorso, sabato scorso, c'è un'azione di speculazione nel mercato europeo sia per quanto riguarda l'Italia ma anche la Germania, sia l'azionario ma anche l'obbligazionario per cui io credo che questa sia stata più un'azione di copertura la giornata di venerdì. Questo è il recupero quando si parlava di recessione imminente anche per l'Europa e quindi un fly to quality e poi il mercato sta iniziando a scontare un potenziale rialzo dei tassi del 0,75 ma è anche vero che il Bund è molto tecnico quindi è arrivato la media mobile a 200 giorni, adesso si sta muovendo con incredibile precisione sui supporti resistenza. Stiamo a vedere se questo livello potrà tenere nei prossimi giorni, è normale che come si può vedere è un mercato, poi ti farò vedere meglio le statistiche più avanti, in downtrend, quindi sta adesso al mercato dare una controprova ma io come sai non sono estremamente positivo sul Bund. Per quanto riguarda l'Italia anche qui ha avuto una bella giornata di ricoperture venerdì con quasi un 3% di rialzo ma è normale che tornerei positivo sul recupero di questa trendline che ha già fermato più volte nel ribasso dai massimi di gennaio a più volte fermato il tentativo di recupero, massimi e minimi decrescenti e quindi siamo su questo livello. Stiamo a vedere che cosa succederà, ma io non sono un amante del mercato italiano, già ci lavoro e ci vivo e ho la casa in Italia, basta e avanza. L'Eurostox ha recuperato questo livello, questo è un grafico settimanale, è molto importante, dovrebbe essere il recupero di questa media mobile ma te ne ho già parlato nelle settimane passate quindi non mi sto a dilungare. La Germania anche lì ha ricoperture, il Nasdaq invece deve riuscire a tenere gli 11.500, io all'inizio dell'anno ti ricordo che avevo dato un target per quanto riguarda il Nasdaq su questi livelli qui, non ci siamo arrivati per un 6%, stiamo a vedere secondo me è probabile anche un ritorno nel mese di settembre in attesa della Fed su un doppio minimo. Ne sarei quasi contento, ecco lo so che non è bello da dire, ma mi darebbe, poi te lo faccio vedere con le statistiche, mi darebbe più conforto. Per quanto riguarda Standard & Poor's, anche qui siamo arrivati su un supporto il mercato, anche questo è settimanale, ha dato un segnale importante. Sul grafico giornaliero c'era stato un tentativo di recupero, in questo senso come si vede giovedì aveva recuperato il supporto e poi sui dati, è difficile dire perché, poi ti faccio una considerazione della frenesia che c'è in questo momento, non solo sui mercati finanziari, ma in generale, siamo andati un po' in frenesia. Questa frenesia la possiamo misurare in molte maniere, poi dopo te lo faccio vedere. Ecco, siamo ritornati su questo livello, sul grafico giornaliero, giornate incredibilmente consecutive, negative, c'era stato un tentativo giovedì di interrompere il trend proprio sul supporto, perché sui supporti si compra, ma poi dopo il dato sulla disoccupazione che aveva fatto salire, ha fatto aprire ben abbastanza forti gli indici americani e poi dopo sono scesi nel mentre. Per fortuna almeno in Italia e in Europa i mercati erano chiusi quando c'è stata un'inversione. Inversione che è anche motivata da un dollaro estremamente forte, il dollaro ha avuto nella giornata proprio dell'ultima settimana, ha avuto un breakout addirittura di questa formazione, sinceramente io non me l'aspettavo, questo è il dollar index e l'euro sul dollaro è ritornato sulla parità. L'euro non sta dando grandi soddisfazioni, per cui siamo di nuovo sui supporti di lungo periodo, per cui stiamo a vedere che cosa succederà, non si è mosso bene, si sta ricreando questa figura con una certa similitudine, stiamo a vedere se è una distribuzione in atto sul loro. Come ti ho detto i mercati sono frenetici, una cosa che ho trovato qui su LinkedIn che mi è piaciuta, ma te la faccio vedere in 10 secondi, è quello che succede su internet in un minuto, ecco, è quello che un po' succede anche sul mercato, c'è una frenesia in questo momento, non ti sto a far vedere, ma è inquietante quello come ci muoviamo su internet, come ricerchiamo su internet le notizie, ecco questa frenesia si sta riversando anche sui mercati, oggi siamo positivi, domani siamo negativi, poi si è rialzisti, poi si è ribassisti, ecco c'è frenesia sui mercati, in realtà nessuno è ancora ben chiaro che cosa può succedere nei prossimi mesi. Nella giornata di venerdì, oltre il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti, è uscito il PPI, cioè l'indice ai prezzi produttori in Europa, un rialzo dall'inizio dell'anno del 37%, te lo faccio vedere graficamente, è inquietante, quindi le imprese oggi in Europa hanno dei rialzi del costo produttivo esagerato, quindi nell'ultimo anno, quindi da luglio dell'anno scorso, esattamente più o meno aprile, però diciamo da luglio dell'anno scorso il rialzo è stato del 37%, come si può vedere qui. Poi adesso sembra che siamo arrivati a un cap, siamo arrivati a un livello, probabilmente è così, siamo a un top, è un top che ho chiamato anch'io da giugno più o meno, però è ovvio che un 37% andrà a ripercuoterci sui margini operativi delle imprese, però ti farò vedere un certificato interessante per le aziende con i migliori dividendi in Europa. Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione USA, quello che era stato, e qui vediamo la frenesia in atto, cioè quello che aveva fatto salire i mercati in apertura in America è stato un rialzo della disoccupazione da 3,6-3,5 nel mese di luglio che poi è a un 3,7, ci si aspettava una conferma del dato, la previsione a un 3,7, quindi questa è stata la, diciamo la fiammata iniziale sui mercati finanziari, perché poi in definitiva gli investitori si aspettano ora un rialzo di solamente 0,5 punti percentuali per la riunione di fine settembre, quando c'è stato sto rialzo qualcuno ha iniziato a dire, beh in questo senso allora good news, bad news, perché se c'è effettivamente, si sta avendo un vantaggio da questa politica monetaria, perché terminare se l'obiettivo poi come abbiamo capito di Powell è quello di rallentare l'economia, quindi si sta riuscendo perché mollare l'osso, quindi se rialzasse di un altro 0,75 probabilmente anche il tasso di disoccupazione, comunque l'economia potrebbe andare in quello che è il soft lending che la Fed vuole, ecco questo è un po' l'aspetto, quindi un doppio taglio inizialmente è stato un euforiale, è aumentata la disoccupazione, ma dall'altra parte qualcuno ha interpretato, allora funziona, perché dovrebbero smettere di fare il rialzo dei tassi, comunque è chiaro che per la fine dell'anno vogliono arrivare un 3,25, quindi che ci arrivino a 0,75, 0,50, quando ti hanno detto il target non vedo perché tutta questa frenesia. La scorsa settimana tutti a parlare del record del gas, nessuno ha parlato questa settimana che il gas ha fatto un meno 30%, siamo di nuovo a questi supporti, se dovesse romperli io credo che potrebbe arrivare anche 185, è vero che nella giornata sempre di venerdì la Russia ha detto che interromperà definitivamente, almeno queste sono le intenzioni, le forniture verso la Germania e quindi verso l'Europa, stiamo a vedere, ormai è diventata una telenovela da una parte l'Ucraina con il nucleare che cerca di sensibilizzare gli europei, dall'altra parte il cattivo Putin che cerca di terrorizzare gli occidentali con le forniture del petrolio, però è un dato di fatto che su Amsterdam il prezzo del gas è sceso, mentre il prezzo del crude oil è sui livelli pre-guerra intorno ai 90 dollari. Stiamo a vedere, vediamo se, vedremo se effettivamente nell'ultimo anno, se noi andiamo a vedere da luglio, 13 agosto del 2022, che era 74, è arrivata a 3,36, oggi a 214, comunque ha triplicato, stiamo a vedere se per l'inizio dell'inverno e dell'autunno potesse arrivare intorno a 144, che poi è stato il costo del gas dello scorso inverno, non sicuramente delle bollette semplici, ma comunque non triplicate come potrebbe essere su questi livelli, ma diciamo che ci attestiamo a quei valori dello scorso anno. Ora ti voglio far vedere una cosa che secondo me è interessante e poi magari le prossime settimane continuo su questo filone. Questo è il pro capite nel mondo, come si vede dal 1800, questa è la linea di povertà, chi guadagna un dollaro al giorno, vediamo che c'è stato, ovviamente sono attualizzati, perché ricordo la canzone potesse avere mille lire al mese, però questi sono attualizzati. Ecco, come si vede nel 2015 il mondo ha migliorato la propensione quindi al consumo, perché l'aumento del pil pro capita e ricchezza in mano alle persone in maniera sostanziale rispetto al 1975, quindi c'è una quantità immensa di persone che vuole stare bene, poi dopo non voglio fare della filosofia ma andremo a vedere meglio il concetto di benessere, però questo è lo Stato, quindi c'è molta più domanda per quanto riguarda materie prime, prodotti finiti, servizi, di quanto ce n'erano 50 anni fa, 40 anni fa, in questo senso. Oggi potresti chiedere, lì è il 2015, oggi che cos'è? Ecco, adesso ti faccio vedere, questo è il 2015 e questo è il 2021. Come si vede a livello, questa è la soglia di povertà dei due dollari, come si vede ci stiamo ritornando, cioè che cosa è successo effettivamente con l'inflazione? Questo è poi il 2021, bisognerà vedere il 2022. Cioè le persone, l'inflazione è una tasse iniqua, cioè va a colpire principalmente i poveri. In questo senso, come si può vedere, c'è un ritorno verso la povertà. Poi magari ti faccio vedere un giorno le statistiche sulle probabilità che ci può essere una guerra, piuttosto che delle insurrezioni, in funzione del prezzo del petrolio, ma ancora di più del prezzo del grano. Quindi c'è instabilità, c'è instabilità nel mondo, qualcuno potrebbe dire, sì, non solo c'è più ricchezza, ma sono anche più persone che guadagnano, più persone che vogliono spendere. Ecco, te ne parlo poi magari in un altro video, se no diventa troppo lungo. La popolazione cresce all'1% all'anno, mentre invece la ricchezza, quindi i PIL mondiali, crescono mediamente al 2%. Quindi quello che incide di più sulla richiesta di beni e di servizi non è l'aumentare del numero delle popolazioni, anche se poi devo prendere in considerazione la variabile che siano più ricchi, ma il concetto che la loro ricchezza genera, a sua volta, ricchezza nella domanda. Quindi quello che incide di più è la voglia, è giustamente il volere stare meglio. Cioè ci siamo 7 miliardi che potremmo diventare 8, poi 10, perché addirittura ci sono analisi che dicono che diventeremo 30 miliardi, che vogliono stare meglio. Quindi per stare meglio, ecco qui, è il paradigma. Cioè stare meglio vuol dire avere una macchina a testa e mangiare 2000 tollerie al giorno, oppure stare meglio è un'altra filosofia di vita. Qui ci sarà, secondo me, è quello che sta succedendo a livello geopolitico. Cioè è giusta l'idea occidentale del benessere inteso come le borse salgono, io sono ricco, compro la macchina sempre più grande e mangio come se non ci fosse un domani, oppure la ricchezza è un qualcosa diverso. Ecco, di questo andrò a vedere, sicuramente ci saranno settori che beneficeranno di questa transizione del concetto di benessere nelle economie anche occidentali. Cioè saranno sempre di più quelli che vorranno vivere in maniera diversa. Quindi ecco, io sono positivo per il futuro, questa transizione non è solo le energie rinnovabili, ma su tanti aspetti, magari ne parlo in un altro video, però penso di aver introdotto il concetto. Nei mercati finanziari, questo è lo standard in pure, c'è volatilità, nei mercati finanziari c'è volatilità, questo è lo standard in pure, numero con le chiusure sotto l'1%, il 2% e il 3%. Quindi volatilità, ma non siamo a dei livelli estremi. Ecco perché io dico, non vedo sul mercato ancora quel panic selling, cioè quella individuazione di un minimo importante motivato dalla paura, dalla depressione, dal pessimismo cosmico e quant'altro. Questo ancora manca sul mercato. Ci sono stati momenti, come nel 2020, che addirittura in meno 3 ce ne sono stati 16, piuttosto che 9, piuttosto che 20, meno 1. Il 2008 è stato, se vogliamo, un record, ma se vogliamo anche il 2002, quindi non vedo ancora, nonostante i dati che ti farò vedere, pessimi dei primi 8 mesi, mi manca quel pessimismo. In ogni caso, questa è una statistica che ti fa vedere, andando a vedere, mentre quella di prima era dall'inizio dell'anno, questo invece va a prendere negli ultimi 12 mesi, come negli ultimi 12 mesi ce ne siano stati 15 di giornate negative, oltre il 2%, di giornate oltre il 2%, e ti dice che nei 50 giorni successivi, mediamente questi sono i ritorni azionari che hanno avuto questi ribassi. Non ti fare ingologire, perché comunque qui è arrivato a 15, ecco a 15 sarebbe arrivato nel 2008 questo, poi ce ne sono stati 32. Ecco, è difficile andare a inquadrare, questa è una visione a 50 giorni, secondo me è un po' aggressiva come punto di vista, ma potrebbe anche starci, quindi magari io sai che io la vedo, da tempo che ti dicevo che secondo me ci sarebbe stato un doppio minimo nell'autunno, quindi ormai ci siamo, quindi siamo in settembre, e settembre è un mese generalmente negativo, il più brutto dei 12 mesi dell'anno, quindi è probabile che ci sia un recupero da qui alla fine dell'anno, passando magari da un doppio minimo, quindi ecco può essere interessante. Sicuramente questo dal punto di vista americano, quindi noi ci dobbiamo mettere l'apprezzamento del dollaro, ecco perché secondo me non c'è stato ancora quel panic selling, perché le perdite comunque per noi europei sono state mitigate molto dal recupero del dollaro, quindi in America, se andiamo a vedere, questo è la great, quindi tutte le obbligazioni sia corporate che governative del mondo, ecco qual è stata l'eccezionalità dell'anno? Che generalmente ha dei ribassi azionari, se sempre ha avuto comunque un ritorno positivo, o quasi positivo, come nel 2018 dell'obbligazionario, che andava in certa maniera a mitigare le perdite in un portafoglio 60% e 40% obbligazioni. Ecco questo non è avvenuto, perché addirittura se lo standard impuro ha fatto meno 16 al 31,8, l'obbligazionario che avevo un po' recuperato poi ha fatto un meno 10, per un totale di un meno 14, però nonostante questo, come ti ho fatto vedere, non c'è effettivamente quel panic selling che mi sarei aspettato. Andare a fare delle previsioni, quindi i primi 8 mesi dell'anno, come abbiamo visto, che ha fatto un meno 17, poi un giorno prima, un giorno dopo può cambiare. Che cosa ci dice? Che da qui alla fine dell'anno, che cosa può fare? Bene, come si vede, la media è un meno 2,9, negativo, la mediana è l'1%, e il percentuale positivo è il 50%. Ecco, questa è la difficoltà, cioè come ti facevo vedere l'altra settimana, siamo nel 74 piuttosto che nel 2002, oppure in qualche maniera siamo in periodi diversi in cui ci può essere un imbalzo. Questa è la difficoltà. Oggi siamo a tirare la monetina, quindi è molto difficile, quindi come ti dicevo, è un momento da affrontare con della liquidità, quindi non dico ben di tutto e scappa, ma un momento sicuramente da affrontare con della liquidità. Ti spiego perché. Ecco, leggendo i vari social network, sembra, questo è l'acronomo che mi ha fatto anche sorridere, Tina, The Ritmo Alternative, sembra che non ci sia alternative a comprare azione. Questo è quello che ci dicono i consulenti, cioè tutte le volte sembra che, siccome l'inflazione è all'otto, le obbligazioni rendono il 3, per voler battere l'inflazione, il potere d'acquisto, devi comprare azioni, poi le azioni ci hanno fatto un meno 15. C'è un'alternativa? I grafici che ti possono far vedere sono questi, in questo caso è l'azionario negli ultimi 10 anni, queste invece sono le obbligazioni, mentre queste sono le materie prime. Questo è il mantra che ci viene sempre ripetuto. Ci andiamo a vedere dall'inizio dell'anno, in realtà quello che ha difeso sono state le materie prime, mentre obbligazioni e azioni hanno avuto, come ti ho già fatto vedere, più o meno la stessa perdita. Ecco, qual è il concetto? Ci sono alternative alle azioni? Sicuramente sì, ci sono alternative, ossia un portafoglio ben diversificato, quindi le materie prime, come si può vedere, hanno stornato, perché il petrolio, il gas, a parte il gas, ma il petrolio è venuto giù durante il periodo estivo, ma anche i beni industriali e quant'altro, perché ci si aspetta una recessione, quindi meno domanda. Le materie prime sono scese, però se andiamo a vedere, le materie prime arrivano da un andamento ciclico molto negativo dal 2008 e quindi qui c'è un momento in cui il mercato delle materie prime, secondo me nei prossimi anni, non aspettiamoci il più 100% tutti gli anni, però nei prossimi anni ci sarà comunque domanda. Questo perché? Perché, come ti facevo vedere, il mondo intero sta chiedendo benessere, chiedendo benessere chiedono materie prime. Il problema in questo momento è proprio quello, cioè le imprese non riescono a stare dietro all'offerta, alla domanda di beni e servizi, per cui ci sono colle di bottiglia e uno dei colli di bottiglia è proprio i beni, perché le materie prime hanno una capacità finita di estrazione, di lavorazione e quant'altro e questo fa sì che oggi venga al pettine questo collo di bottiglia. Chiudo con questo certificate che investe nelle azioni e poi dopo te lo faccio vedere con i maggiori dividendi dell'Eurostox che in questo momento, come puoi vedere, quota 905 e quindi è su dei livelli sotto la barriera. Ti spiego meglio il prodotto. È un prodotto emesso da Mediobanca che questo è l'Aisin ma lo vedi anche nella prima slide del video. È una copertura del 95%, 30 titoli con i migliori dividendi. Se vai su internet, su Google, metti l'Aisin, ti vengono le varie spiegazioni. Io in particolare vado sempre su WebSIM a vedere le spiegazioni. Qui ti fa vedere come funziona, quindi i 30 titoli. Ecco, il prodotto se portato a scadenza vanta tre punti di forza. Quindi copertura 95%, quindi in questo momento paga 90%, quindi c'è un 5% di rendimento sicuro. Scadenza prima marzo 2027, quindi ci si augura che da qui al primo marzo 2027 i mercati europei salgano. In questo caso, comunque, il tuo capitale protetto nel caso in cui non dovessero salire. sappi però che non replica il rialzo al 100%, ma andrai ad avere una performance al massimo del 42%, più o meno. Qui ti mette 158. Leggi attentamente il KID, quindi il prospetto informativo, dove ci sono le spiegazioni. Ma qui su WebSIM, se ci vai, rimborsa scadenza, ti dà cosa succede se l'investitore dovesse comprare dopo l'emissione. Questo è il caso. e vedi le varie possibilità. Te lo spiega bene. Io ti dico solo che è un capitale protetto, ma non partecipi al 100% dei rialzi da qui al 2027. Però ben venga, insomma, avere da qui in 5 anni un rendimento del 58%, più oggi lo pago sotto la parità, diciamo, per cui ho un qualche genere di più. Ben venga, insomma, non mi farebbe schifo. grazie dell'attenzione. Sono stato un po' prolisso, un po' lungo, ma purtroppo gli argomenti erano tanti e poi ne ho tolti veramente, ho fatto una cernita. Ti auguro una buona domenica e alla prossima settimana che cercheremo di approfondire alcuni aspetti che ti ho accennato durante questo video. Ciao e buona domenica ancora. Alla prossima.